Abbiamo scelto MOSS come partner ufficiale serigrafico in Induplast per la capacità di supplire a tutte le nostre esigenze lavorando con diversi formati con diverse tipologie di prodotto e quindi a tutte le esigenze che il mercato ci richiedeva. L'esigenza tecnica di decorazione serigrafica su questi oggetti ci ha portato alla scelta dell'MHM. Secondo noi è l'unica macchina presente in mercato che serigraffa sia a vasi che flaconi di forma quadrata, ellittica, ovale e quant'altro. I benefici che abbiamo ottenuto da tale scelta è soprattutto la versatilità della serigrafia delle macchine su tutti i vari formati, vari flaconi e varie forme, l'adattamento del telaio serigrafico sulle forme più strane. MOSS si è resa molto disponibile nel personalizzare sia nel software che meccanicamente tutte le nostre richieste. Ci aspettavamo dei benefici in termini tecnici importanti che abbiamo ricevuto assolutamente in toto perché siamo riusciti a portare dei decori personalizzati su contenitori speciali. Abbiamo scelto e continuato a scegliere MOSS per avere una continuità dal passato al presente e al futuro.